Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi affrontiamo temi nazionali e anche locali in una scala continua con il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Buonasera, grazie dell'invito. Abbiamo visto come sono andate le elezioni, il risultato molto netto e poi c'è stata la composizione del governo e i primissimi provvedimenti, le primissime misure. Chiederei quindi di fare una valutazione di queste prime settimane. Intanto è una grossa soddisfazione per il risultato ottenuto, è innegabile, noi siamo passati da percentuali in provincia di Belluno del 6%, siamo arrivati perfino nei comuni dove abbiamo sfiorato il 48%, a dimostrazione di una credibilità ormai riconosciuta, forse anche personale e anche del partito, che ci porta oggi ad avere il 25% a livello nazionale e addirittura il 34% in provincia di Belluno. Quindi una prima grandissima soddisfazione. Le grandi soddisfazioni portano sempre però anche a grande responsabilità, come in questo caso e quindi anche quella una grandissima responsabilità, tra l'altro acquita dal fatto di essere l'unico parlamentare bellunese eletto e quindi questo aumenta ancora la responsabilità perché rappresentare chi ti ha dato mandato ma anche quelli che non lo hanno fatto diventa una cosa seria, una cosa importante. Il governo si è mosso bene, si è mosso velocemente, ha chiacchierato pochissimo anche nella fase di struttura stessa del governo, non abbiamo festeggiato perché non c'era nulla da festeggiare, c'era semplicemente la consapevolezza di dover mettersi a lavorare. Nei primi 16 giorni direi che il governo ha fissato benissimo le proprie priorità anche nei consigli dei ministri come quella dell'intervento a fuori delle bollette e soprattutto l'intervento per cercare di lenire il costo del gas e quindi è stata una prima priorità la gestione degli arrivi e degli sbarchi, una seconda priorità nel quale abbiamo un contesto internazionale con cui confrontarci ma anche una ferma posizione che è una posizione che deriva dal fatto di avere una maggioranza assolutamente coesa, non un governo spezzatino come quello di prima che doveva mettere d'accordo visioni totalmente differenti, oggi c'è una visione che è quella che ha venuto alle elezioni e che avrà portato avanti per i prossimi 5 anni, in un momento non è facile, non è che ci illudiamo che lo sia, ma sappiamo che con la compattezza che stiamo dimostrando e con la volontà e l'impegno che stiamo dimostrando stiamo dando una ricetta per uscire da questa situazione, dopodiché speriamo che la medicina sia buona. Immediatamente dopo le elezioni, ma insomma già si sapeva, è emerso una volta di più il tema della rappresentanza territoriale, nella scorsa legislatura eravate 5-6 a seconda di come facciamo il conto e adesso è rimasto solo lei. Sì, un po' è il taglio dei parlamentari che oggettivamente riduce le possibilità di elezione dei parlamentari delle aree diciamo così periferiche, però è tanta anche la volontà delle segreterie di partito. Prateria d'Italia già nel 2018 aveva messo un deputato, il sottoscritto in posizione leggibile, addirittura poi quando sono decaduto ha messo un bellunese in un collegio veronese, è sempre capitato esattamente il contrario, cioè che magari in questi collegi arrivasse qualcuno da fuori. Il mio partito ha dimostrato la volontà di far rappresentare queste aree e purtroppo per una serie di fattori che non sta a me giudicare, le altre forze politiche non sono riuscite, non hanno voluto fare la stessa cosa, con mia grandissima preoccupazione perché l'ho detto subito, l'ho detto addirittura prima, io ho sempre apprezzato il lavoro dei miei colleghi perché guardi, sia il lavoro di Dario Bond piuttosto che il lavoro dei colleghi della Lega e di Roger Nemene come del Ministro d'Inca, erano stati preziosi tutti, al di là delle posizioni politiche differenti, avevano lavorato per questa provincia, è innegabile, erogere addirittura rivestendo magari in un periodo il ruolo dei comuni di confine ma senza aver mai avuto un altro ruolo di governo ha saputo essere assolutamente incisivo per queste località e quindi ovviamente dimostrando come non è tanto il ruolo ma quanto la sua interpretazione che a volte sono utili. Oggi siamo da soli e io ho fatto appello a tante anche alle forze sociali, alle associazioni, al volontariato perché se noi non dimostriamo di essere un esercito compatto e soprattutto se noi al nostro interno della provincia intendo non dimostriamo quali sono le nostre priorità, noi rischiamo nel cercare di volere tutto e di non riuscire a difendere nulla e questo è un grande problema. Dopodiché però ognuno si metterà la mano sulla propria coscienza e cercherà di capire le motivazioni che sono arrivate ad avere un parlamentare solo, questo è il tema. A questo punto può valere per diciamo portare a casa qualche risultato in più, una specie di alleanza delle altitudini chiamiamola così con altri territori montani, cioè che hanno problemi simili. Assolutamente sì, io l'ho sempre detto già dal primo mandato che se la montagna non faceva massa critica era difficile pensare che una nazione nella quale 30 anni fa il 70% delle persone vivevano nelle aree rurali e solo il 30% oggi o comunque tra 20 anni la percentuale si rovescerà e quindi ci saranno solo il 30% di persone che vivono nelle aree rurali. Queste non avranno la forza per quanto ne abbiano la voglia e la consapevolezza di incidere sul resto della nazione e quindi toccherà per forza fare gioco di squadra, ma io mi rendo conto già anche nel ruolo da responsabile nazionale di agricoltura che mi ha consentito comunque di girare in questi cinque anni realtà che erano molto simili alla nostra non solo al nord ma anche al sud, penso alla Sicilia, ai Nebrodi, aree che con le debite naturalmente differenze comunque vivevano e pativano gli stessi problemi, gli agricoltori come gli operatori mi dicono esattamente le stesse cose, spopolamento, senso di abbandono totale e quindi è con queste realtà che noi dobbiamo fare massa critica e con quei parlamentari e con quelle forze sociali che anche in quelle realtà esistono. Questo è un compito difficile, gravoso, ma che chi ha sensibilità verso i propri territori come ce l'abbiamo noi deve assolutamente fare, non può esimarsi. Ecco, lei è fresco di una nuova nomina. Sì, ieri indicato dal mio partito naturalmente, ma votato poi da tutta la commissione, tutto il centro-destra, sono stato nominato presidente della commissione agricoltura, industria, commercio e turismo, che è il frutto della fusione che è avvenuta al Senato proprio per la riduzione del numero di parlamentari di due commissioni, cioè quella attività produttiva e quella dell'agricoltura. Tra l'altro è già un compito difficile così, nel senso che una fusione del lavoro che prima competeva due commissioni, già la dice lunga sul fatto di quanto sarà l'impegno che dovremmo metterci. Insomma lo facciamo, rappresentiamo in quella commissione di fatto l'Italia che produce e che lavora e quindi anche il Veneto, il bellunese che produce e che lavora e questo per noi è un'assoluta sicurezza. Tra l'altro poi alla Camera è stato nominato presidente della commissione finanze anche Marco Snato che è bellunese dentro e quindi non solo per nascita ma anche per forte vocazione e senso di appartenenza, quindi in commissione finanze e quindi con tutta la sfera della fiscalità e quindi è evidente che il nostro sarà un gioco di squadra assoluto e quindi cercheremo di essere veramente molto utili a questa città ma anche a questo territorio. Ecco, poi tra l'altro questi del lavoro sono anche temi che riguardano le imprese che in questo periodo lei prima faceva riferimento alla crisi energetica, insomma sono praticamente tutte coinvolte da problemi relativi ai costi, relativi anche alla redditività degli investimenti, persino agli allevamenti, non ci si pensa mai ma gli allevamenti sono enormi. Io ci penso eccome anche perché è venuto prima un problema di approvvigionamento delle materie prime, non solo mangimi ma anche concimi e fertilizzanti, poi il problema grossissimo del costo di energia, non solo il caro il gasolio ma anche chi aveva la serra e anche gli stessi funzionamenti delle celle frigo o delle vasche del latte per chi mongeva, insomma tutti hanno avuto dei costi molto alti, noi vorremmo, abbiamo cercato di farlo, il governo ha cercato di farlo già nei primi giorni del mandato, far capire alle imprese che avevano finalmente uno Stato al loro fianco e non uno Stato che li vedeva come dei nemici, come la famosa frase di una forza politica diceva che gli imprenditori erano i prenditori, ecco noi vorremmo dividere bene quelli che hanno approfittato in questi anni della bontà o della connivenza dello Stato da quelli che invece si sono fatti un mazzo così e che oggi sono in oggettiva difficoltà, tra l'altro questi sono gli stessi che hanno contribuito a erogare servizi essenziali, cioè al pagamento dei servizi essenziali che erogavano per esempio i comuni sotto forma di tasse locali naturalmente che erogavano i servizi che i comuni fanno e che oggi sono in difficoltà quelle stesse imprese e quindi oggi vanno aiutate, supportate perché specialmente al nord-est è impensabile mantenere il nostro livello di vita, tenore soprattutto di vita se le imprese oggi non vengono sostenute, se noi non salviamo questa emorragia noi non salviamo questo territorio, deve essere chiaro a tutti, è un problema nazionale, non è un problema solo bellunese, però dobbiamo averne chiara la consapevolezza che il momento è difficile, ma a momenti difficili vanno fatti interventi seri e fatto sapere alla gente che non sarà facile uscire da questa situazione. Guardando avanti ai prossimi 4 anni, ma ormai sono poco più di 3, c'è il grande appuntamento olimpico nella nostra provincia, ma poi in realtà c'è anche l'Arena di Verona, insomma ci sono altri territori, Milano, Trentino, Alto Adige, ci si sta avvicinando, ci sono stati avvicinamenti a livello di cariche, però il territorio un po' aspetta ancora certi cantieri. Il territorio lo aspetta perché è evidente che oltre a essere un modo per ottenere determinati interventi, soprattutto infrastrutturali, che altrimenti non avresti, parliamoci chiaro, se non ci fossero le Olimpiadi noi non potremmo pensare di aver risolto, di provare a risolvere la situazione della 51 bis di Alemagna, questo mi sembra evidente. Dall'altra parte c'è una grossa aspettativa anche sotto il profilo squisitamente motivazionale, cioè il fatto di avere le Olimpiadi dà respiro e dà una prospettiva anche futura a chi magari oggi è in difficoltà, ma diceva domani con le Olimpiadi. Olimpiadi, ma non solo, anche le pare Olimpiadi, che hanno assunto negli anni sempre un'importanza sempre più grande e che troveranno a Cortina una maggior diffusione di quella stessa delle Olimpiadi, dove le gare sono oggettivamente poche, probabilmente si poteva lavorare un po' di più, per averne di più. Ad oggi però si è visto poco o nulla, di varianti se ne è parlato, ma non c'è nulla di partito e quindi è chiaro che la gente si chiede come saranno pronte per il 2026, dubito che lo saranno, perché se questi sono i tempi e se il buongiorno si vede al mattino, certo che rimarranno dopo. Ok, ma se noi vogliamo formare veramente un territorio e presentare un territorio appetibile a tutto il mondo, perché avremo gli occhi puntati di tutto il mondo, è evidente che avremmo dovuto non solo partire prima, ma probabilmente usare una gestione molto più snella di quella che è stata utilizzata. Io confido molto nei nuovi vertici della Fondazione, come nel Ministro dello Sport, che ho già avuto modo di incontrare e di confrontarmi su parecchie cosette che riguardavano il nostro territorio. Chiuderei con un tema che riguarda un numero di comuni ancora maggiore rispetto a quello toccato dai temi olimpici, paradossalmente, che è quello del Fondo Comuni Confinanti, quindi c'è tutta una lunga cintura di paesi bellonesi, ma poi anche delle altre province che naturalmente confinano con Trento e Bolzano. Beh, intanto inizierei col dire e ringraziare per il lavoro che stanno facendo sia Dario Bond che Roger De Mene, per la pianificazione del lavoro che hanno fatto in questi anni. Tra l'altro un connubio quasi, che uno potrebbe essere innaturale, il PD è uno di Forza Italia, ma forse l'esempio di come proprio lavorare assieme e fare squadra porti i risultati. Quando Dario mi ha paventato la possibilità di avere una collaborazione con Roger, io gli ho detto immediatamente sì, cioè che secondo me era quello che questo territorio tra l'altro voleva, cioè di vedere i propri parlamentari che lavoravano assieme e non che si confrontavano magari su cavilli. E quindi cominciamo da questo. Dopodiché ho letto anch'io, ho sentito le dichiarazioni dell'assessore Trentino secondo il quale non dovremmo più avere i fondi di confine. Mi auguro, ma lo verificerò a breve con il Ministro Calderoli, che quella sia solo una boutade estemporanea e isolata di chi magari era abituato a gestire più risorse che oggi con la crisi, come tutti, è in difficoltà. Ma se sono in difficoltà a Trento pensate come possono essere a Belluno. Dopodiché ci si può confrontare, sono stati usati bene, usati male, dovevano avere un respiro più ampio, solo i comuni di prima fascia, solo i comuni di seconda, tutta la provincia. Su questo discutiamo. Non ho scritto da nessuna parte che non può essere. Ricordiamo però che se ci sono i fondi è merito probabilmente di una grande attività proprio di quei comuni che sono più a ridosso. Quindi sediamoci tutti, fermiamo la palla, decidiamo, confrontiamoci, però cerchiamo di non far crollare quelle che sono ormai delle certezze. E cioè che quei fondi costituiscono, anche se utilizzati solo per infrastrutture, quando secondo me con un accordo diverso potrebbero essere utilizzati anche come vengono utilizzati non solo per l'unico studenti, ma anche per altre spese correnti, che non vuol dire gestione di impianti piuttosto che, ma semplicemente riequilibrio socio-economico, perché se i costi per spostarsi da Belluno a Calazzo sono tre volte quelli che ci sono in altre aree, è evidente che si deve, si può intervenire, come sui costi dell'energia. Quindi decidiamo e parliamone, però insomma teniamoli dei punti fissi, e cioè quei fondi di confine ne abbiamo diritto, ce li abbiamo e li vogliamo tenere. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti. Buona serata, buona continuazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.